Dopo poco più di un anno alla guida di Como il centro-sinistra è alle prese con la sua prima crisi politica. E a nulla sembrano valere i tentativi di diplomazia messi in campo dal sindaco Mario Lucini sui focolai innescati dalla vicenda ZTL e Posti Blu. La bufera sollevata dalla decisione di aumentare le tariffe dei parcheggi in alcune strade non accenna a placarsi. La decisione sarebbe stata presa dal dirigente preposto Pier Antonio Lorini in applicazione di una delibera di due anni fa ma senza consultare sindaco e assessore. In queste ore l'assessore Bruno Magatti si è espresso come mai finora. Non sono d'accordo per nulla, ha detto il titolare di Ambiente e Servizi Sociali. Questa volta io dissento. A questo punto, ha aggiunto duramente, bisogna capire chi governa la città. Sul ruolo dei dirigenti e sui rapporti con la giunta c'è una questione aperta che adesso va affrontata. Dice Marco Tettamanti, capogruppo di Como Civica, la compagine che sin qui ha più di altre difeso e appoggiato il complicato lavoro dell'esecutivo. Non era nostra intenzione aumentare le tariffe dei parcheggi. Non so come si sia arrivati a questa decisione. È evidente che c'è stato un problema di comunicazione spiacevole e che è stata applicata una delibera senza informare gli assessori. Dentro la maggioranza anche la componente di Paco Sell lancia segnali di nervosismo. Vincenzo Sapere mostra sconcerto e delusione. In un momento di caos, andare a spiegare ai cittadini i motivi per cui aumentano le tariffe e dire loro che l'assessore non sapeva nulla è a dir poco imbarazzante. Dice, siamo di fronte a una cosa grave. Se avesse agito in solitudine, così come sembra, il dirigente andrebbe rimosso dall'incarico. Mi chiedo però, conclude Sapere, per quale motivo l'assessore non abbia esercitato il necessario controllo sugli atti del dirigente. Sul fronte dell'opposizione, il Movimento 5 Stelle definisce la vicenda una scenetta da sitcom. La lotta interna è in corso e chi ne paga le conseguenze è il cittadino, dice Luca Ceruti. Ora l'aumento delle tariffe è solo l'ennesima goccia che non farà traboccare nessun vaso. Non ci saranno allontanamenti, non siamo così fortunati. Durissima la bra Bordoli dal gruppo misto. Trovo del tutto ridicolo e ingiustificato che l'assessore Gerosa lamenti di non essere a conoscenza degli aumenti, accusa l'ex sfidante di Lucini. Se dobbiamo credere a quanto dichiarato dall'assessore Gerosa, dice Bordoli, possiamo solo parlare di cattiva amministrazione che effettua le proprie scelte politiche senza capire cosa questo comporti per i cittadini. Il Movimento della Verità è in programma per lunedì con un supervertice tra Lorini e Gerosa, dove di certo si salteranno i convenevoli per capire cosa sia realmente accaduto.